Quest'estate sono andato a molti posti. A luglio sono andato a Tainan con i miei amici. Il primo giorno abbiamo assaggiato molti cibi, per esempio il gelato di frutta e vermicelli con le ostriche. E poi siamo andati al museo Cimei. Ci sono molte operazioni e violini. Perché il curatore piace il violino. Di notte siamo chiacchierati e abbiamo bevuto in albergo. È la mattina del secondo giorno. Abbiamo fatto una colazione locale. E poi siamo andati all'isola Yuen. Abbiamo fatto una passeggiata sulla spiaggia e presso il sole. A agosto sono andato all'isola verde in barca con i miei amici del collegio. Abbiamo fatto un tuffo in molti luoghi e anche fatto una passeggiata sulla spiaggia. E poi abbiamo mangiato il cibo locale, per esempio pesce e ostriche. Sono tutti freschi e coltessi la vita natura di questa isola. Il secondo giorno siamo andati all'isola delle mani e abbiamo veduto l'alba. E poi abbiamo nuotato al mare limpido. Il mare veramente molto bello.